Ora è il turno di Valentina Manfred che insieme alla sorella Deborah gestisce l'hotel American. Buongiorno e bentrovati, oggi siamo a Lido di Jesolo, siamo in compagnia della signora Valentina che insieme alla sorella Deborah gestiscono l'hotel American appunto a Lido di Jesolo. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti. Allora, sono circa 20 anni che voi gestite questo hotel, che caratteristiche ha questo hotel? L'hotel è sicuramente un hotel a gestione familiare, perciò adatto all'accoglienza di famiglie prettamente come a me. Diciamo, quante camere ha questo hotel? Noi abbiamo 55 camere che possono essere doppie, triple o addirittura quadruple per le famiglie più numerose. Siamo vicini alla spiaggia perché dista circa 50 metri, però siamo anche in posizione decentrata. Per voi è un vantaggio, immagino perché essendo decentrati non è completamente nel caos della notte. No. E diciamo che è un albergo molto tranquillo. La zona è molto tranquilla, siamo affacciati sul viale pedonale. Quali servizi offre l'hotel? L'hotel è rivolto a una clientela internazionale. Nel pacchetto camera i clienti hanno diritto a usufruire della nostra spiaggia privata, quindi l'ombrellone con i due lettini, sia in spiaggia che in piscina. In piscina troveranno un angolo giochi anche per i bimbi. Offriamo il servizio di noleggio biciclette, molto utile a Jesolo con la lunga pista ciclabile. La nostra cucina è rivolta ad una clientela internazionale, ma poniamo molta attenzione anche ai nostri piatti tipici e anche molta attenzione ai clienti che hanno esigenze particolari nel loro menù. Pertanto anche i celiaci. Certo, i celiaci vegetariani e soprattutto i menù bambini. Perfetto. Allora, voi siete anche vicini a Venezia e di conseguenza per voi è un vantaggio. Certo, siamo in una posizione strategica e Jesolo è ben collegata per raggiungere Venezia in pochissimo tempo. In 50 minuti si raggiunge Piazza San Marco. Ho visto entrando che avete un bellissimo bar. Fate anche servizio per i clienti esterni? Certo, il bar è gestito da noi ed è aperto dalle 7 della mattina fino a mezzanotte, aperto ai clienti dell'hotel e anche esterni dove si possono gustare sia aperitivi, cocktail che snack. Ho visto che avete anche una grande piscina qui sul retro dell'hotel. Una piscina, quanti metri è indicativamente? 15 metri di piscina, sì. Ecco, l'ho visto anche c'è un divisorio. Certo, abbiamo il divisorio per i più piccoli che possono divertirsi nell'acqua bassa e poi la piscina per gli adulti. Nell'offerta, diciamo, ai vostri clienti avete qualche particolarità, qualche proposta particolare? Sì, due volte a settimana facciamo due serate un po' particolari. Il martedì sera dopo cena due animatori intrattengono i bimbi così i genitori possono stare un po' tranquilli e quindi fanno dei giochi in piscina. Invece, la nostra serata di gala è il giovedì sera e offriamo un aperitivo a tutti i nostri clienti al bar e poi dei piatti tipici e tradizionali al ristorante. Bene Valentina, a questo punto vogliamo fornire i dati per potervi contattare ed eventualmente prenotare? Certo, potete scrivere a bookingchiocciolaamericanoteliesolo.it e vi verrà fornito il preventivo in base alle vostre richieste oppure telefonare allo 0421 97 1887. Saremo lieti di ospitarvi e di conoscervi. Perfetto, ringraziamo allora Valentina per averci dedicato questi minuti di intervista. Da Lido di Jesolo è tutto, a voi studio.